La situazione meteorologica per questo fine settimana vedrà l'allontanamento del corpo nuvoloso che ci sta interessando e che ha determinato delle precipitazioni nella giornata di venerdì piuttosto abbondanti sulla regione. Sabato prevediamo quindi cielo in genere poco nuvoloso, variabile al mattino sui monti, qualche nebbia, nube bassa, in particolare Tarvisiano e Valcellina, qualche foschia possibile in pianura, temperature vediamo ancora qualche gelata notturna in pianura naturalmente, su tutta la montagna, anche a Fondo Valle, nelle zone innevate, temperature massime in aumento, fin 12 gradi circa, pianura e costa. Domenica sempre una giornata dal tempo stabile, ma avanza nuvolosità nel pomeriggio a quote medio-basse, quindi nube basse, anche forse qualche piovigine sul Triestino o sulle zone orientali, ancora foschie, mentre rimarrà migliore il tempo in montagna, in particolare sulla fascia alpina, temperature in aumento sia nelle minime, sia in pienura che sulla costa, massime stazionarie. Lunedì sarà una giornata caratterizzata ancora da nuvolosità a quote basse, tra costa e prealpi, ancora qualche pioggia o piovigine, foschie, tempo ancora leggermente migliore sulla fascia alpina, temperatura vediamo in deciso aumento nei valori minimi, che supereranno i 10 gradi, in particolare sulla costa. Dall'asservatorio Meteo dell'Arpa, Arturo Puccillo vi saluta.